Sabato 11 novembre, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con Tussi Q e Vales lo show più amato dal pubblico che, settimana dopo settimana, lo ha eletto il programma di intrattenimento più visto della stagione TV. A valutare le performance degli artisti i giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Theo Mammucari e Rudy Zerbi, a cui si affianca Maraveni e portavoce della giuria popolare.Sul palco si susseguono molteplici artisti, dalle caratteristiche più diverse illusionisti, rumoristi, cantanti, mimi, ballerini, comici e tanti altri. In studio a condurre lo show e introdurre i numeri la bellissima showgirl Belen Rodriguez e il gigante di simpatia Martin Castro Giovanni.Ufficio Stampa 1 di 3